Vincenzo D'Amato, il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, stava già ricoprendo l'incarico di commissario straordinario del nosocomio. Dopo aver retto l'azienda in un periodo difficile durante l'emergenza Covid, è riuscito a riguadagnarsi la conferma, una nomina attesa da tempo sostenuta anche dalla valutazione ottima ricevuta dalla commissione esaminatrice. È chiaro che adesso l'attuale direttore generale non ha più alibi e deve fare delle scelte coraggiose, poiché l'azienda effettivamente è ferma da 20 anni e quindi necessita di un grosso adeguamento, sia per quanto riguarda i fabbisogni organizzativi che quelli assistenziali, a quelle che sono le concrete richieste assistenziali della comunità di riferimento. È una persona esperta, è stato coadiuato dal punto di vista amministrativo-sanitario abbastanza bene e quindi ci aspettiamo che effettivamente si mettano a regime e quindi si abbia una vera messa in opera di un cantiere rivoluzionario che tenga effettivamente conto dell'evoluzione che tutto il sistema sanitario ha avuto, della sua complessità, a dare risposte concrete ai cittadini che in questo momento non si sono curati rispetto a quelle che erano patologie croniche e che molto probabilmente potrebbero avere un bisogno immediato di rientrare nella cura e nell'assistenza e quindi nella filiera concreta.